Musica Incidente questa sera, domenica 28 gennaio, poco prima delle 19.30, sulla strada provinciale 222 Traozegna e Castellamonte, quasi nei prezzi dello svincolo della Piedemontana all'altezza del bivio per Sant'Antonio. Una Fiat Panda con a bordo una coppia di pensionati ha tamponato una seconda Fiat Panda che era ferma, perché pare, secondo una prima ricostruzione, che davanti stesse svoltando un carro allegorico del Carnevale. L'impatto è stato violento ed entrambe le vetture sono finite giù dalla piccola scarpata sul prato che costeggia la careggiata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Rivarolo Canavese e del nucleo radiomobile di Ivrea. Periti di ovviamente pensionati che sono stati trasportati in ospedale, illesi gli occupanti dell'altra vettura. Grazie Grazie Grazie